Ciao! Oggi vi voglio mostrare la seconda maglia del Bayern Monaco per la stagione 22-23 in versione player, quella indossata dai calciatori. Mi raccomando, prima di lasciarmi, se il video vi piace mettete un like e iscrivetevi al canale. Ciao a dopo! La maglia da calcio away dell'Adidas Bayern Monaco 2022-23 introduce un design elegante. Combina una base bianca con oro metallizzato per i loghi. Ufficialmente i colori sono white dark football gold. Il dark football gold ha un forte effetto metallico. Non ci sono elementi grafici o altri elementi di design di fantasia. È la prima volta nella storia del club che viene fatta una maglia bianco-oro. In precedenza l'oro era già un colore d'accento per la maglia di casa rossa e per la terza maglia della stagione 21-22. Analogamente alla maglia da trasferta 21-22, la nuova maglia da trasferta 22-23, presenta lo stemma della città di Monaco sulla parte alta della schiena. Questa maglia secondo me è strepitosa. L'avevo già vista nella versione FAND, trovate la recensione qua sopra. L'ho voluta riprendere in versione player perché è bellissima. Nella mia classifica peraltro non può prendere che 5 stelle. Una maglia che dovete avere secondo me a tutti i costi. Una delle più belle del buyer che sia mai stata fatta. Qui in alto vedete il costo, bassissimo, quasi incredibile. E vi ricordo che in descrizione, qua in basso, trovate tutti i riferimenti per comprare la maglia, ma soprattutto dei link per ottenere un coupon da 3 dollari che potete utilizzare sul sito per comprare questa maglia o qualsiasi altra cosa che volete. La maglia è fatta molto bene, perfetta in ogni dettaglio, con le applicazioni giuste, con una trama bellissima, con dei colori brillanti. E la spedizione è stata anche molto veloce. In questo momento il sito sta ricevendo tanti ordini, ma riesce comunque a far arrivare le maglie in 25 giorni. Ora vi lascio alla parte in cui vedrete la vestibilità. Ci vediamo su altre recensioni. Ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia large della versione player.